Tutti dal Tg regionale per sordi, il sindaco di Livorno, Salvetti e tutta l'amministrazione comunale hanno espresso vicinanza ai militari italiani rimasti feriti ieri durante una missione in Iraq. Stamani il sindaco ha telefonato al generale Caruso, comandante del comando delle forze speciali dell'esercito, il cui quartiere generale si trova a Pisa, all'interno della caserma Gamerra, sede anche del centro addestramento paracadutismo. Il sindaco di Livorno si è informato, si legge in una nota del comune, sulle condizioni dei militari feriti, comunicando al generale la presenza morale dell'intera città di Livorno e offrendo appoggio e sostegno da parte sua e della giunta. Due dei militari feriti, di cui uno in maniera grave, sono a distanza a Livorno. Incidente di caccia nel pomeriggio di ieri in località Fonterutoli, nel comune di Castellina e Inchianti, in provincia di Siena. Un 58enne, residente a Firenze, è stato raggiunto alle natiche da alcuni pallini di piombo, mentre si trovava nascosto dietro le frasche. I pallini provenivano da un fucile semiautomatico calibro 12, con cui un altro cacciatore, un 68enne originario della provincia di Potenza, però residente a Poggi Bonzi, voleva abbattere un volatile. Subito soccorso dal personale del 118, intervenuto sul posto. Insieme ai carabinieri, il 58enne è stato trasportato al pronto soccorso di Siena per le cure. Non è in pericolo di vita. Ordine dei medici di Pistoia contro l'ASL Toscana Centro, a causa di sanzioni arrivate in questi giorni ad alcuni dottori di medicina generale, per prescrizioni effettuate a favore di propri pazienti e che l'azienda sanitaria riterrebbe inappropriate. A renderlo noto, lo stesso ordine il cui presidente, Montalti, ricorda come a nessuno sia consentito anteporre la logica economica alla logica di tutela della salute. Il ministro della salute cinese, Max Hiawei, in visita oggi a Firenze, ha incontrato il presidente della regione toscana, Enrico Rossi, accompagnato da cinque funzionari del ministero. Erano presenti anche l'assessore toscano al diritto alla salute Stefania Staccardi e il direttore della direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale, Rinaldo Tomassini. Le due delegazioni hanno poi visitato l'ospedale di Santa Maria Nuova e il Maier. La presenza di Max Hiawei a Firenze prende le mosse dalla firma venuta a giugno scorso di un accordo quadro di collaborazione tra la Toscana e il Centro per lo sviluppo delle risorse umane in sanità della Cina. Un'associazione a delinquere è finalizzata a turbare il corretto svolgimento delle procedure di affidamento di pubbliche forniture, in particolare divise per comuni e altri enti pubblici. All'ipotesi di reato al centro di un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Firenze e dal PM Fiorentino De Gregorio, che stamani ha portato all'esecuzione di misure interdettive a uffici direttivi di società per nove imprenditori titolari di ditte toscane che producono capi di abbigliamento dal lavoro. L'inchiesta insomma avrebbe svelato l'esistenza di un cartello di imprese. Sono felice che a poche ore dall'atto vandalico una ragazza sul Ponte Vespucci abbia fatto una nuova iscrizione provvisoria. Ho i brividi, è stato un gesto veramente bello, significa che Firenze non ci sta. Lo ha detto il consigliere in Palazzo Vecchio di Sinistra Progetto Comune Antonella Bundu, dopo che è stata coperta da ignoti con della vernice nera la targa in ricordo di IDDN, il venditore ucciso a Firenze dall'ex tipografo Roberto Pirrone il 5 marzo 2018. Targa che era fissa sul Ponte Vespucci nel punto esatto in cui l'uomo fu ammazzato a colpi di pistola. Rinviato al 5 febbraio 2020 il processo a massa che vede imputati Marco Cappato e Mina Welby per aver aiutato Davide Trentini, malato di sclerosi multipla, ad andare in Svizzera a morire con il suicidio assistito il 13 aprile 2017. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Massa perché si attendono le motivazioni non ancora depositate della sentenza della Corte Costituzionale dello scorso settembre, sull'articolo 580 del Codice Penale che ha stabilito che non è punibile chi agevola il suicidio nei casi come quelli del DJ Favo. Nasce il Chianti Gran Selezione, il top della qualità dei vini Chianti. A darne notizia il Consorzio Chianti che ha approvato la proposta di modifica al disciplinare di produzione. Con il via libera alla revisione inizierà così l'iter di approvazione da parte della Regione Toscana, del Ministero dell'Agricoltura e della Commissione Europea in un tempo stimato di circa due anni. Con il nuovo disciplinare nasce anche la menzione geografica aggiuntiva chiamata più comunemente sotto zona Chianti Terre di Vinci. E siamo arrivati alle previsioni del tempo per domani in Toscana, molto nuvoloso, con deboli e isolate piogge in mattinata sulle zone sud, orientali e appenniniche. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad aumentare e andranno in gran parte della Regione. Isolati temporali possibili sulle zone più sud e sull'arcipelago. I venti moderati settentrionali con rinforzi sulla costa, arcipelago e zone appenniniche. I mari mossi o molto mossi a largo, tra poco mossi e mossi sotto costa. Per quanto riguarda le temperature, minime stazionarie e massime in calo. Per questa sera è tutto, grazie per averci seguiti. Arrivederci. Grazie.